buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio agnese fedeli vediamo la situazione del traffico della mobilità in questo lunedì 18 marzo in a 1 prudenza per materiali dispersi tra firenze sud e incisa reggello verso roma in a 11 possibili disagi per rispostamenti mattutini tra pistoia il bivio con la 1 e tra sesto fiorentino e firenze per etola segnaliamo che sta piovendo in fibili tra firenze bivio sdc fibili di ramazione pisa verso il capoluogo possibili rallentamenti tra la strassigna e firenze scandici ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di orte i treni sulla linea firenze chiusi roma potranno subire ritardi variazioni o cancellazioni e prima di salutarci per il traffico ruolo di firenze tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo risanamenti stradali in via san bartolo a cintoia via maccari via accademia del cimento e i nuovi allaci in via pisana e via reginaldo giuliani può avversi toscana infoservizio in collaborazione con regione toscana città meroportana firenze comune di firenze per ora è tutto buon viaggio